Sì, sì, sapete che cosa vi dico? Quasi quasi preferivo la nave! Guardate, i guerrieri di terracock! Forse è meglio fermarsi e aspettare che passi la tempesta! Vi vicino a un bel fuocherello! Tieni duro, zio! Ci siamo quanti! Vedi, ce l'abbiamo fatta! Questo sì che è viaggiare! Cosa si può chiedere di più? Un paesaggio incantevole che scorre placido davanti agli occhi, cullato dal click-clack, click-clack, delle rotaglie... Ah! Sei d'accordo con me, Benjamin? Cosa? Oh, no, 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 no! Io in Africa non ci vado, scordatelo! Ah-ha! Qui sento odore di notizioni da primissima pagina! O ti vuoi far soffiare sotto i baffi anche questo scu? Preparate il siero antiserpente, si va in Africa! E vai! E vai! Ah! No, no, no! Oh! Che volo fantastico, ragazzi. Ho dormito come un ghiro. Secondo me c'è qualcuno che ha bisogno di un aiutino. Tu che dici? Ci penso io. Geronimo. E dai. No!